Andrea Scarpa, il pugile 28enne da poco laureato, campione intercontinentale IBF, International Boxing Federation, dei pesi superleggeri, è stato premiato a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e dal vicepresidente Nino Boeti. Scarpa ha conquistato la cintura lo scorso 28 novembre sul ring del Palazzo Sport Le Cupole di Torino. Cosa si prova a essere campione intercontinentale versione IBF, categoria superleggeri, Scarpa? È una bella sensazione, devo ancora capire cosa è successo, perché da quando ho vinto c'è stata una marea di eventi, non sono ancora riuscito a rendermene conto, bello comunque sicuramente.